Bella a tutti ragazzi, benvenuti in questo video, io sono Movo, oggi siamo qui perché proprio nello shop oggi è uscita la skin di Flash Come avevamo detto nello scorso video, dopo il torneo la skin di Flash doveva riuscire nel negozio oggetti il 14 di febbraio Quindi eccoce da qui, oggi nel negozio oggetti, andiamo da vedere, ecco qua il bundle che ci dà la emoto, zainetto, piccone in più la schermata di caricamento E vabbè, è la skin, 2200 V-Bucks, eccola qua, la skin, ragazzi non mi piace molto però ci sta, dai carina, non è una brutta skin Ecco il backpack, è reattivo, quindi ad ogni kill andrà a potenziare il suo raggio di luce, il piccone, eccolo qui, sentiamo Ci sta, carino, ci sta, la emot, eccola qui, allora prende un panino, poi cosa prende di altro, ok, una rivista E poi, eccolo qui, ok Poi andando avanti ci abbiamo la schermata di caricamento, schermo intero, eccola qui, normalissima, ci sta Se volete gli item singoli potete andare avanti, quindi Flash 1500, remote 400 V-Bucks, il piccone 1200 e basta I set si conclude qui, quindi ragazzi le novità di oggi sono queste qua Poi andando sotto abbiamo la skin jolly che è ritornata dopo tanto tempo, eccola qui jolly con i suoi stili, mamma mia, skin bellissima ragazzuoli Poi andando avanti ci abbiamo gelatina, anche questa qua carina Abbiamo scampo, il piccone gelatine, arc, lei anche molto bella, divino, virtù e poi malcore, ecco il suo piccone, occhio del male Poi eruzione astrale, quante skin, ok, a posto, a posto Poi ci abbiamo ogni giorno cuore nero, eccola qui di oggi, carina anche questa Facciamo Bucky, abbiamo fortuna, il piccone fortuna Molinello, poi abbiamo pugile ombra E ci abbiamo anche, anche ballerina Andando sotto ci abbiamo tutto il set di Tron che ormai avrete già visto e rivisto Quindi non ve lo faccio rivedere Andando avanti ci abbiamo cuori selvaggi, sempre tutti gli item di San Valentino Ancora qui cuori selvaggi, tutti gli item di San Valentino Andando sotto, ancora item di San Valentino Andando ancora più sotto, ancora item di San Valentino E poi ci abbiamo l'armidietto d'Oleia Quindi ragazzuoli, questo qua è un bundle per da streamer d'Oleia E quindi si chiude qui, quindi ci sta ragazzuoli Per supportare tutti i video che faccio Live e contatto, vi ricordo comunque di supportare Il mio codice cattolo all'interno dei costi oggetti di Fortnite Social mau, accettate E rinnovato ogni 14 giorni E tutto ciò, noi ci becchiamo in un prossimo video Bella raga